un saluto amici della rete in questo episodio andremo a vedere un tipo di sutura che deriva dal nodo semplice e che si chiama sutura a sopraggitto o sutura semplice continua deriva perché il nodo semplice nella sua variante a punti staccati nel senso che come si vedrà mentre il nodo semplice viene tagliato ad ogni punto e per questo andrebbe chiamato più propriamente nodo semplice interrotto la sutura semplice continua che vedremo in questo episodio non viene mai tagliata per iniziare la sutura a sopraggitto iniziamo con l'eseguire un punto semplice eseguiamo quindi un nodo chirurgico e poi due chiavi ossia mezzi nodi invertiti come visto nell'episodio del punto semplice ma questa volta non andiamo a tagliare il filo dopo aver completato il nodo ma riprendiamo l'ago quindi senza tagliare il filo rientriamo dallo stesso lato per uscire poi dal lato opposto facciamo scorrere tutto il filo riprendiamo l'ago nella posizione originale ripartiamo con un nuovo punto senza tagliare nessun filo e andiamo avanti così eseguendo tutta una serie di punti semplici che però non vengono mai interrotti questo porterà a tutta una serie di passaggi paralleli di inclinati del filo all'esterno della ferita per chiudere il sopraggitto invertiamo la posizione del lago nel porta aghi e rientriamo questa volta dal verso opposto di come fatto finora facendo attenzione a lasciare un piccolo cappio di circa un paio di centimetri fuori dalla pelle usiamo questo cappio per eseguire il nodo chirurgico e due o più chiavi per chiudere la sutura rispetto al punto semplice questo tipo di punto ha come vantaggio una maggiore velocità di esecuzione un minore utilizzo di filo ed è più ermetica ed emostatica ha però rispetto ad esso alcuni svantaggi innanzitutto la tensione del filo lungo la ferita non è omogenea e mentre nei punti iniziali finali vi è il rischio di stenotizzare o ischemizzare la ferita i punti intermedi risultano più lassi inoltre nelle suture continue il cedimento di un punto comporta la deiescenza completa della sutura e non possiamo usare un filo non riassorbibile perché se proviamo a sfilare la sutura la lunghezza del filo sottopelle non permette di rimuovere il materiale di sutura per ovviare al problema della diversa tensione del filo possiamo eseguire la versione incavigliata della sutura continua semplice ove ad ogni punto incavigliamo l'ago con il cappio lasciato sul versante opposto quindi iniziamo la sutura come prima con un punto semplice ma quando la continuiamo infiliamo di volta in volta l'ago nel cappio lasciato sull'altro lato della ferita e anche qui continuiamo a eseguire più volte la stessa tecnica quindi rientriamo con quello che dovrebbe essere un nodo semplice ma come sfiliamo l'ago facciamo entrare l'ago nel cappio presente sul versante opposto e andiamo avanti così questa variante permette di dosare in modo corretto la tensione dei punti lungo tutta la sutura un saluto amici della rete grazie Grazie a tutti.